Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con l'astensione di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Toscana domani, la nuova legge che va a modificare la legge regionale 11-2020, cambiando la normativa sulla formazione della polizia locale in Toscana, con il testo approvato, la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale con sede a Modena perde l'esclusiva, consentendo di avvalersi di altre realtà operanti in questo settore delle politiche pubbliche regionali. Una prima legge che era stata presentata nella prima commissione prevedeva il recesso della Regione Toscana dalla Fondazione Interregionale per la Formazione della Polizia Municipale di Modena. Nella prima commissione si sono tenuto una serie di audizioni le quali hanno manifestato il disagio rispetto al venir meno della partecipazione della Regione Toscana a questa fondazione che ha lo scopo di curare la formazione della Polizia Municipale. Per questo motivo è stata presentata una nuova proposta di legge, oggi approvata dal Consiglio regionale, nel quale si esclude che ci possa essere il recesso da parte della Regione Toscana rispetto alla fondazione, ma si prevede che la formazione della Polizia Locale possa avvenire attraverso differenti canali, tra cui anche la Fondazione Interregionale di Modena. Pertanto si passa da un regime che è quello attuale di esclusività nella formazione ad opera di questa fondazione, a un regime diverso che prevede il ricorso a differenziati strumenti di formazione, tra cui anche quello della Scuola di Formazione di Modena. Ogni anno la Giunta prevede quali siano le priorità della formazione, stanzi alle relative risorse e i comuni, nella misura in cui si avvalgano della formazione ottenuta e richieste ottenute dalla Regione Toscana, comparteciperanno agli oneri in misura non superiore al 20%. Allora, innanzitutto, anche a beneficio di chi ci ascolta, parliamo della Scuola Interregionale di Formazione di Agenti di Polizia Municipale, perché ad oggi gli agenti di Polizia Municipale della Toscana, dell'Emilia Romagna e della Liguria vengono formati in un'unica scuola che ha sede a Modena. Oggi la Regione Toscana ha approvato una legge che non obbliga più la Regione Toscana a servirsi di questa scuola di formazione e su questa proposta di legge Fratelli d'Italia si è astenuta. Perché si è astenuta? Perché secondo noi mancava il secondo pezzo, perché mancava il pezzo in cui dicevamo che non ci servivamo più della scuola di Modena perché ne facevamo una in Toscana. Invece, a quello che abbiamo capito dal Presidente Gianni, ancora, nonostante la direzione vuole essere questa, ancora la Toscana non è pronta ad avere una sua scuola. Noi crediamo invece che questa sia la soluzione. Cioè, non più una scuola interregionale, ma una scuola toscana. Questo per almeno quattro motivi. Il primo, i fondi che arrivano dal Governo per la formazione di agenti di Polizia Municipale restano in Toscana e non vengono girati, come accade ad oggi, pari pari ad altre regioni. Due, i formatori e gli istruttori, gran parte dei formatori, la stragrande maggioranza dei formatori e degli istruttori che oggi lavorano nella scuola di Modena sono toscani. Quindi potremmo utilizzare il nostro know-how in casa nostra. Terza, una scuola di formazione toscana può dare un'uniformità di formazione migliore che non una scuola che forma agenti provenienti da tre regioni differenti. Quarta e ultimo punto, perché così ci possiamo concentrare a formare gli agenti di Polizia Municipale sui temi che sono più caldi in Toscana, perché le peculiarità di una polizia in Toscana non sono giocoforza le stesse dell'Emilia Romagna e della Liguria. In Toscana ci potrebbero essere dei temi più sensibili, più importanti da affrontare rispetto a quelli che si hanno in Emilia Romagna e Liguria. Quindi la necessità di arrivare a una scuola di formazione toscana. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che formalizza l'esistenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, costituita nel gennaio 1981 dai Presidenti delle Giunte Regionali, anche con fonte legislativa regionale, per agevolarne i compiti di elaborazione per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale. Nel 1981 i Presidenti delle Regioni avevano dato vita a una conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Questo per favorire la concertazione di politiche comuni e per partecipare anche in modo unitario e maggiormente compatto alla formazione delle leggi nazionali e di quelle europee. Lo scorso 6 dicembre c'è stata un'intesa che è uscita dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che ha avuto lo scopo di istituzionalizzare l'operatività della Conferenza. All'interno di questa intesa sono state fissate le modalità di costituzione e anche il regolamento, nonché le finalità di questo organismo e si è altresì previsto che ogni singola regione con propria legge vada ad approvare e a recepire questa intesa. In armonia quindi con quanto disposto dalla nostra Costituzione ma anche dallo Statuto della Regione Toscana, ovvero che si favoriscano le intese tra le regioni e che queste intese siano recepite con legge regionale, oggi il Consiglio regionale ha con legge approvato l'istituzionalizzazione e quindi la continuazione stabile di questa conferenza dei Presidenti delle Regioni, prevedendo anche una serie di norme di dettaglio ma soprattutto recependo il contenuto di quelle intese. Allora quando l'ultima delle regioni italiane con propria legge regionale approverà questa intesa diventerà quindi un organismo permanente la Conferenza dei Presidenti di Regione che di fatto è già operativa dal 1981 ma che a questo punto diventa un organismo stabile del coordinamento tra le regioni italiane. Si tratta di istituzionalizzare quell'organismo, cioè la Conferenza delle Regioni che già esisteva in pratica ormai da tempo. Le regioni con le varie riforme nel corso degli anni hanno assunto sempre più potere, sempre più autonomia su sempre più temi e hanno iniziato a confrontarsi tra loro, hanno iniziato a interlocuire tra loro giustamente, hanno iniziato a portare avanti anche battaglie comuni perché spesso e volentieri una battaglia nasce in una regione ma è sposabilissima da un'altra anche a differenza a volte di connotazione politica dei governatori e quindi è un ente che ormai da tempo lavora in autonomia e in sinergia. Ci è sembrato giusto istituzionalizzarlo, è una richiesta tra l'altro che arriva da tutte le regioni, quindi sia da regioni governate dal centro-destra sia da quelle del centro-sinistra e crediamo che quest'atto serva a dare più dignità, più rappresentatività anche nei confronti del Governo nazionale e a questo organismo che di fatto esiste ed opera nella quotidianità ormai da tempo. Presentata nella Sala Sassoli di Palazzo del Pegaso, la campagna di Fratres Toscana per invitare a donare il sangue e aumentare la squadra dei volontari intitolata Donare Sangue, la ricetta della felicità. Non solo uno slogan ma soprattutto un'iniziativa arrivata in tutte le farmacie della regione, impegnate a consegnare le medicine in sacchetti di carta rigorosamente targati Fratres Toscana con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di potenziali donatori. L'associazione, che può contare oltre mille volontari, nel 2022 ha registrato oltre 62 mila donazioni, garantite da 40 mila donatori. La Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte, così i suoi cittadini. Credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres, dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana, che può farlo, di fare la propria parte. È importante, è importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare in questa direzione. Questa è l'idea che abbiamo voluto mettere in campo per il 2023, reduci da altre esperienze negli anni scorsi, con altri tipi di promozioni di questo tipo. Abbiamo voluto tentare sulle farmacie, cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone e molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento che è la carenza appunto del sangue, come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022. E quindi nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento, quella grossa carenza delle donazioni, ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte questa nuova campagna. In senso generale la Toscana ha perso circa 4,5% delle donazioni globalmente della Toscana. Noi come Frates siamo riusciti a mantenere la perdita all'1,87%. In termini numerici per noi sono circa 1.200 donazioni sulle 63.000 che di norma facciamo. Quindi è comunque pesante, soprattutto la carenza dell'anno scorso che era stata una carenza di donazioni su tutto il territorio nazionale ha messo in crisi il sistema trasfusionale e quindi comunque il sistema sanitario perché non era neanche facilmente reperibile il sangue dalle altre regioni che normalmente invece in certe situazioni danno supporto alla Toscana. Quindi proprio per cercare di non rivivere i momenti critici dell'anno scorso siamo cercati di partire con delle campagne per poter sensibilizzare le persone a diventare donatori. Quello che manca sono nuovi donatori. C'è bisogno di nuovi donatori, noi sappiamo che la Toscana ha una grande realtà di associazioni che riescono a tirare, a convincere tante persone ad andare a donare, però non siamo ancora sull'autosufficienza di sangue che sarebbe un obiettivo veramente importante da poter raggiungere. Sappiamo che è importante donare il sangue, è importante donare il plasma e allora ecco questa iniziativa di Fratres oggi è un'iniziativa fondamentale perché appunto la Fratres come le altre associazioni hanno un ruolo di andare a cercare i donatori, a parlare con ognuno di noi, con i ragazzi più giovani anche in vista delle future donazioni, con le famiglie, con le scuole, per far capire anche con piccoli gesti, anche quando si compra il pane, anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco, ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male, il sistema sanitario a funzionare, la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi. Quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha e che le associazioni ci ricordano di poter fare e che serve a tutto il sistema sanitario. Nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso sono state premiate dalla Fondazione Gianfranco Salvini cinque tesi di laurea 2022 con contenuti innovativi sulla neuro-riabilitazione. A vincere il premio da 2.000 euro, destinato alla tesi di specialisti in medicina fisica e riabilitativa, Stefania Spina dell'Università di Foggia. Gli altri quattro riconoscimenti, da 1.000 euro ciascuno, per lauree triennali nella classe delle professioni sanitarie e della riabilitazione, sono andati a Gloria Mataldi dell'Università degli Studi Torvergata di Roma, Sofia Gandolfi dell'Università degli Studi di Padova, Lorenzo Balducci dell'Università degli Studi di Torino e Elisabetta Valentini dell'Università degli Studi di Siena. Noi sappiamo che i luoghi dove la cura funziona meglio e dove la ricerca si sviluppa e dove si riesce a trasferire sulla parte clinica l'attività e i risultati della ricerca. Allora, la Fondazione in questo caso fa questo, premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca, quelle persone che hanno fatto ricerca e che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività, in questo caso di riabilitazione. Quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano. Sì, è un connubio direi che vorremmo festeggiare tutti i giorni, significa che abbiamo centrato l'obiettivo quello di creare una cultura dopo di noi, dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo ambito davvero importante della neuro-reabilitazione, significa investire sui giovani, significa fargli comprendere che le istituzioni sono vicine a loro. Io ho colto con favore la richiesta dell'ingegner Boncompagni di essere presente qua con la Fondazione perché farlo all'interno delle istituzioni significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro. La Fondazione Gianfranco Salvini, dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo, ha deciso due anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani, cercando anche di investire le risorse che la Fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca. Per favorire la ricerca e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuro-reabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. Abbiamo visto negli ultimi anni il passaggio da tesi sostanzialmente di tipo compilativo e aneddotico a tesi con impostazione scientifica che inevitabilmente attraino dell'innovazione nell'ambito delle neuroscienze. Il Centro Ricerche della Clinica di Riabilitazione Toscana ha da sempre una collaborazione con la Fondazione Gianfranco Salvini. Abbiamo ricevuto finanziamenti nell'ambito della nostra attività di ricerca di tipo traslazionale, quindi un'attività di ricerca che cerca di produrre dei miglioramenti nella qualità dell'assistenza al paziente, proprio attraverso la sperimentazione, attraverso il confronto e anche attraverso la diffusione di nuove strategie di cura. La tesi che mi ha portato poi alla vittoria di questo premio riguarda l'utilizzo di una tecnologia a base di sensori inerziali applicata alla valutazione del paziente con ictus. Quello che ho fatto è stato appunto aggiungere questa tecnologia alla valutazione di questi pazienti e ci ha permesso di avere dei dati in più per valutare una di quelle attività più frequenti della vita quotidiana che è appunto il turning, la capacità di girare del paziente e questi sensori appunto ci hanno dato dei dati in più per valutare fattori di rischio, di caduta e altro e ci hanno permesso appunto di avere un follow up del paziente migliore. La mia tesi della laurea triennale ha riguardato l'utilizzo di realtà aumentata nei pazienti con stroke presso l'unità di stroke unit delle scotte di Siena e con questa tesi ho utilizzato un visore Microsoft HoloLens che permetteva di aggiungere degli ologrammi alla realtà circostante e con questo studio sono riuscita a dimostrare come una migliore partecipazione attiva del paziente all'interno del proprio percorso di recupero favorisce non solo un miglior recupero motorio ma anche una riduzione dei tempi di ricovero. Ho svolto un lavoro di tesi dal titolo attività assistita con animali nella sindrome di Rett, ipotesi di trattamento di supporto finalizzato al potenziamento delle abilità cognitive. Dunque l'oggetto della tesi è la sindrome di Rett che è un raro disordine del neurosviluppo che ha un'incidenza di 1 su 10 mila nate vive. Questo studio è stato svolto in collaborazione con l'ACS Lazio in quanto sono stati utilizzati i cani da salvataggio di questa associazione. L'obiettivo dello studio è stato quello di dimostrare come l'attività assistita con i cani da salvataggio svolta in acqua potesse essere un valido strumento di supporto a quelle che sono le terapie tradizionali. La mia tesi aveva come obiettivo quella di individuare, di verificare la fattibilità e la sicurezza dell'utilizzo di stimolazioni uditive ritmiche nel trattamento di persone con malattia di Parkinson in un contesto però di teleriabilitazione. Dato la recente pandemia da Covid-19 e dato il fatto che la letteratura ultimamente sta spingendo molto sull'utilizzo di tecniche di trattamento hands off rispetto a quelle invece che richiedono il tocco terapeutico. Io sono logopedista, lavoro con la disfaggia infantile quindi con la difficoltà di deglutizione nell'età evolutiva, quindi nei bambini preferibilmente. Ho fatto la tesi sull'asma che è una malattia genetica rara e è l'atrofia muscolare spinale di cui si sa molto poco. Ho elaborato un protocollo di valutazione della deglutizione in modo da aiutare sia i bambini sia le famiglie in generale per una presa in carico e una migliore qualità di vita.